La città di Kharkiv non ha pace. Altri tre civili sono stati uccisi e cinque sono rimasti feriti nei bombardamenti russi. Secondo le autorità ucraine, un razzo ha colpito un'area residenziale e ucciso le persone che si trovavano in strada. Dopo l'attacco sono scoppiati diversi incendi che hanno raggiunto gli edifici, un parcheggio e un'area industriale. Il bombardamento sarebbe stato effettuato dal sistema missilistico Uragan in dotazione alla Russia, che ha utilizzato proiettile a frammentazione ad alto potenziale. Abbiamo sentito spesso dire che l'Occidente vuole combatterci fino all'ultimo ucraino. È una tragedia per il popolo ucraino, ma sembra che si stia andando in quella direzione, ha dichiarato il presidente russo Putin. Tutti devono sapere che in linea di massima non abbiamo ancora iniziato a fare sul serio. Allo stesso tempo non rifiutiamo i colloqui di pace, ma coloro che negano questa possibilità devono sapere che più a lungo durerà, più sarà difficile per loro fare un accordo con noi. Intanto il presidente ucraino Zelensky rafforza l'asse con Washington e saluta i senatori statunitensi Graham e Blumenthal. Oggi avvertiamo davvero il più forte sostegno da parte degli Stati Uniti d'America. Abbiamo molte sfide, sia sul campo di battaglia che nel settore civile, a causa dei continui attacchi missilistici alle nostre infrastrutture, edifici residenziali, scuole, università. E per noi il compito numero uno è che le donne con i figli possano tornare in Ucraina entro il primo settembre, in modo che i bambini possano andare a scuola. A Kramatorsk, nel Donbass, la normalità è quella di iniziare il raccolto in campi devastati da crateri missilistici. Secondo la NASA, le forze russe di invasione occupano ora circa il 22% dei territori agricoli ucraini, con gravi ripercussioni su uno dei principali fornitori dei mercati globali di cereali.